Ciao e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vedremo come sviluppare il modello tridimensionale del pacchetto della copertura. Ieri abbiamo visto insieme come realizzare il tridimensionale del pacchetto della parete. Oggi invece vedremo come sviluppare ed impaginare il modello tridimensionale del pacchetto della parete che ha uno sviluppo in orizzontale, invece al contrario della parete che ha uno sviluppo verticale. Questo è il bidimensionale che ho già realizzato insieme con la relativa tabella con gli spessori, i materiali e le lettere di riferimento. Ho già impaginato in 1 a 3 il solo pacchetto bidimensionale scala 1 a 5 con gli spessori concordati in modo da rendere graficamente più leggibile il progetto. Poi, come abbiamo visto ieri, che comunque vi consiglio di vedere il tutorial di ieri sulla parete, ho realizzato il filtro per il pacchetto bidimensionale con tutti i vari strati e i colori che ho scelto. Dopodiché ho realizzato una copia del pacchetto bidimensionale rendendo tutti i vari strati delle polilinee. Quindi, come vedete, ogni strato sono delle polilinee, anche i rettangoli che formano le tavole dell'XLAM sono tutte polilinee, anche i bracci, come vedete, i bracci flessibili, l'isolante, il cartongesso e la piastra antincendio. Dopodiché ho realizzato un'ulteriore copia con i relativi layer. Ho realizzato ancora un altro filtro, vi consiglio di guardare anche il tutorial dedicato alla gestione del layer avanzata. Ogni layer corrisponde a uno strato e ad un materiale. I materiali li ho ricavati naturalmente dalla tabella, come vedete, dalle MDF all'XLAM e ho assegnato a questi layer dei colori simili ai colori reali di questi materiali. Adesso procedo con fare ancora un'ulteriore copia di questo modello bidimensionale nella parete con i colori reali. Attenzione, qui ho aggiunto anche la membrana. Attenzione, la membrana che in realtà, come tutti sappiamo, non ha uno spessore rilevante, perché è come se fosse un foglio di carta. Però, in questo caso, siccome lo devo estrudere, ho dato uno spessore di 2 mm. Questo qui è il sito di riferimento, sempre data OLS, e questa qui è la sigla del mio pacchetto e ho scelto la variante con il numero 01. Questa qui è la struttura che andremo a realizzare. Vedete che i materiali sono, diciamo, in scala progressivamente, si riducono in modo da far capire la stratigrafia del pacchetto. Per ottenere quell'effetto lì, io andrò a spostare progressivamente di 50 mm, parte appunto i primi due di 30 e poi 50. Vado a spostare tutti i vari strati di 50 mm, quindi poi 100. L'XLAM, visto che è composto da tavole di 200 mm, andrò a fare una copia delle tavole. Vado a farlo fuoriuscire rispetto agli strati precedenti. Eccolo qui. Poi vado a prolungare le tavole trasversali dell'XLAM di 200 mm. Vi ricordo che qui sto lavorando io in millimetri. Dopodiché vado a fare anche la membrana di 150 mm. Poi proseguo con l'isolante interno, la lana minerale, la piastra antincendio e infine il cartongesso come ultimo strato. Ecco, questo qui mi servirà appunto ad ottenere quello stesso effetto che abbiamo visto prima nel sito. Vedete questa scala dei vari materiali. L'altro lato invece la otterrò grazie a delle istrusioni, anche in quel caso lì, progressivamente, che andranno a ridursi verso l'alto. Ecco, faccio un'ulteriore copia di questo modello bidimensionale, sempre per sicurezza, non si sa mai dovessi sbagliare la procedura di realizzazione del modello 3D, ho sempre una copia messa da parte, una copia originale. Vado a suddividere la mia schermata in tre finestre. In realtà io preferisco la 3 destra, in modo da avere la finestra più grande alla mia destra. Qui vado ad impostare la vista sonometrica. Ecco qui, poi vado ad impostare invece in basso a sinistra la vista frontale e in alto lascio la vista superiore, quindi la vista dall'alto. La cosa importante è mettere ombreggiato con spigoli come modalità di visualizzazione, andare a selezionare elementi 3D di base come area di lavoro e poi la grande differenza tra la parete e la copertura è appunto che andiamo a ruotare. Prima ancora di andare a distrudere, utilizzando gismo rotazione, selezionate tutto l'elemento bidimensionale, selezionate come punto base, selezionate il gismo e lo portate al punto base in corrispondenza del pannello di cartongesso, selezionate l'asse Z che è il cerchio rosso e inserite 90 gradi, in modo da ruotare di 90 gradi rispetto all'asse Z a livello bidimensionale. Infatti come vedete nella vista in basso a sinistra, che è quella frontale, vedremo appunto il modello 3D, mentre nelle altre, in quelle in alto, troveremo una linea soltanto perché è la vista dell'alto. Dopodiché posso cominciare ad estrudere i vari materiali. Parto con layer cartongesso, comando estrudi, seleziono 1200. Dopodiché vado gradualmente a ridurre i vari strati. Seleziono il layer dedicato alla piastra antincendio, estrudo, seleziono il rettangolo della poi linea 1150. Dopodiché continuo, continuo così con i listelli di ebete interni, seleziono i due rettangoli, invio, anzi in questo caso si tratta di sezione quadrata, e vado ad estrudere di 1100. Proseguo poi con i bracci flessibili che sorreggono appunto i listelli e li collegano all'Xlam. Li vado ad estrudere di 1050 rispetto all'asse Y. Poi, dopodiché, proseguo con l'isolante interno. In questo caso si tratta di una lana minerale. Quindi, vado a selezionare la lana minerale, estrudo, e in questo caso andrò ad inserire il valore di 1000, appunto, corrispondendo ad un metro. Vi ricordo che qui sto lavorando appunto i millimetri. Poi continuo con il materiale Xlam, lo strato Xlam. Qui le cose un po' cambiano in realtà, perché devo andare a selezionare il prima lo strato inferiore, quello composto da queste tavole, dove vado a vedere praticamente la parte orizzontale, la testa, e vado ad inserire 800, perché le tavole sono larghe 200 mm. Quindi vado a fare un multiplo di 200, in modo che il secondo strato, con le tavole in senso trasversale, ne vado a fare un'estensione di 200 e poi la vado a copiare. Vado a realizzare tre copie, in modo da ottenere un'Xlam uniforme, diciamo, a queste dimensioni qua. Adesso gli altri strati non li andrò a realizzare, naturalmente andrò a fare delle copie. Utilizzo la vista in basso a sinistra, la vista frontale, per selezionare. Seleziono i primi due strati, li ricopio sopra, dopodiché vado a selezionare il primo strato con le tavole, con la vista, diciamo, della testa delle tavole, orizzontale, e poi la vado a copiare, vado a copiare lo strato nella parte superiore. Così ho realizzato lo strato dedicato all'Xlam. Dopodiché proseguo con... ho la membrana. Attenzione, la membrana non la dimenticate, perché in questo momento è poco visibile. È poco visibile, quindi attenzione a non dimenticare. La vado ad estrudere di 750 mm. Poi proseguo con l'isolante esterno, in questo caso si tratta di una fibra di legno. Vado ad estrudere di 600, anzi no, 700 mm. Vedete come sono ben visibili su entrambi i lati i vari strati. Vado poi a selezionare appunto il pannello di MDF e qui vado a fare 650. Continuo poi con, in questo caso, faccio i listelli di abete rosso. In questo caso vado ad estrudere di 600. Poi continuo con i listelli di abete trasversali rispetto ai precedenti. In questo caso mi vado ad assicurare che la sezione sia, se non sbaglio, a 30x50. Quindi devo estrudere il listello di 50 mm. Dopodiché, per far capire la struttura del tetto, le faccio una copia con una distanza di 450 mm. Perfetto. Dopodiché, infine, vado ad estrudere la piastra, anzi la lamiera di copertura, anche quella lì si tratta di una polilinea, la vado a estrudere di 500. Perfetto. Questo qui, possiamo definirlo completo, questo qui si tratta appunto del modello tridimensionale, la vista tridimensionale del nostro pacchetto della copertura. Vado a spostare questa copia qui, perché come vedete sicuramente darà fastidio, una volta arrivati poi all'impaginazione dei vari modelli, vado a spostare in modo da liberare la visuale da modelli che non voglio impaginare, in questo caso. Perfetto. Adesso non ci rimane che passare all'esploso. Come per la parete, andiamo a fare una copia del modello appunto della vista tridimensionale che abbiamo appena finito, appena completato. Faccio una copia, la metto abbastanza lontano, tipo in questo caso l'orto, la metto abbastanza lontano in modo da non dare fastidio poi con gli altri elementi una volta arrivati all'impaginazione. Mi posiziono sulla vista frontale, in basso a sinistra, e vado a selezionare Gizbon, spostamento, e vado a sollevare rispetto all'asse Z di 1100, il primo strato, in questo caso appunto la mira di copertura, e poi proseguo progressivamente abbassando il valore appunto dei milioni. In questo caso vado a mettere 1000, poi alzo i listelli di 900, e vado a scalare praticamente. Attenzione, incontriamo qui il modello 3D dell'esploso in modo da verificare la correttezza delle lavorate. Proseguo poi con l'isolante in fibra di 700 mm, lo vado ad alzare rispetto all'asse Z, poi proseguo con la membrana, vado ad inserire 600, poi proseguo con l'Xlam, lo vado a sollevare di 500 mm, poi continuo ancora con l'isolante interno, la lana minerale, poi proseguo con i bracci fessibili, in questo caso faccio 220 mm, e invece il listelli faccio di 150. Vedete che però, come per la parete, i bordi di questi due elementi risultano troppo vicini, quindi preferisco, piuttosto che si sovrappongono, li vado ad alzare di altri 10 mm. Ricordate, nell'esploso c'è una sovrapposizione netta oppure c'è una distanza netta. Poi infine vado a sollevare la piastra antincendio di 100 mm, perfetto, io direi che ci siamo. Controlliamo, verifichiamo se l'esploso è leggibile, diciamo, è comprensibile, perfetto, io direi che ci siamo, possiamo passare all'impaginazione. Vedete, ho ripetuto l'impaginazione di ieri della parete, soltanto che in questa finestra più grande a destra metteremo, in questo caso, visto che si sviluppa molto in verticale, metteremo l'esploso. Vi raccomando di ricordare di inserire ombreggiata con spigoli. Metteremo lì l'esploso in scala 1 a 10. Qui posso mettere la vista tridimensionale semplice in scala, anche qui io lascerei 1 a 10, anche se non si vede adesso andiamo a restringere un po' la finestra invece dedicata al bidimensionale in scala sempre 1 a 10. Vi ricordo che nel bidimensionale va inserito il wireframe e non ombreggiato. Vado appunto ad ingrandire la finestra della vista tridimensionale semplice, adatto poi quella lì del bidimensionale, e questo qui è il risultato che otteniamo. Ecco, se volete potete disattivare la griglia se vi dà fastidio all'interno del layout. Perfetto, io direi che come in paginazione ci siamo, vi ricordo appunto, wireframe 2D nel bidimensionale. Dopodiché vado a spostare il testo che mi indica appunto il tipo di elaborato. Questo non sarà più un esploso ma sarà appunto una vista 3D e non in scala 1 a 20, ma pensi in scala 1 a 10. Questo qui invece sarà un esploso 3D scala 1 a 10. Così tutti gli elaborati sono in scala 1 a 10. Ricordate di sempre nominare la fonte, in questo caso data holtz. Andiamo a verificare io direi che ci siamo. Ecco, qui abbiate il bidimensionale con in basso poi la vista 3D semplice e a destra via esploso che va sicuramente a facilitare la comprensione del pacchetto. Bene ragazzi, io vi saluto e ci vediamo presto.